L'età di Pericle La Grecia, nell'ultima fase della guerra contro la Persia, si divise tra le polis alleate di Sparta, la Lega Peloponesiaca e quelle alleate con Atene, la Lega di Delo o anche Delio-Attica. A Delo, una piccola isola dell'Egeo, le polis alleate di Atene raccolsero un tesoro in un famoso santuario per finanziare le operazioni militari contro la Persia. Atene ottene la presidenza dell'Assemblea degli Alleati e il comando terrestre e navale. Le operazioni militari durarono a lungo e solo nel 449 fu firmata la pace di Callia che pose fine al conflitto fra Greci e Persiani. I Persiani si impegnavano a non attaccare le polis e a non inviare flotte nell'Egeo, mentre la Lega di Delo rinunciava ad ulteriori espansioni, soprattutto verso Cipro. Con la fine della guerra, la Lega di Delo si sarebbe dovuta sciogliere, ma Atene volle mantenerla in vita, aumentando il proprio potere sulle polis minori, che dovessero accettare dei regimi democratici e subire sempre di più la supremazia della città dominante. Il tesoro della Lega fu trasferito ad Atene, che ottenne pure di amministrare la giustizia tra le varie polis. La politica di Atene può essere definita imperialista, in quanto finiva per trasformare gli Alleati in sudditi, e nel tutelare e promuovere solo gli interessi atenesi. D'altra parte, la sicurezza dei mari, l'unificazione monetaria e l'estensione del diritto atenese permettevano a tutti di sviluppare lucrosi commerci, mentre i regimi democratici ebbero effetti tutto sommato benefici. Chi guadagnava di più, però, era Atene, e non mancarono delle proteste da parte degli Alleati. Che a volte furono represse anche con la forza. Atene, infatti, ricavava molti profitti dalla Lega. Ogni polis doveva contribuire con un certo numero di navi da guerra, ma molte città non erano in grado di farlo, e quindi pagavano un contributo in denaro ad Atene, che in cambio armava delle navi al loro posto. In questo modo, molti cittadini atenesi, soprattutto della classe più povera, i Teti, ottennero un posto di lavoro, pagato dagli Alleati. Ad Atene, la vita politica in questo periodo fu molto intensa. Due partiti politici dominavano l'eclesia. Uno rappresentava gli interessi del commercio e dell'artigianato, ed era quello democratico. L'altro sosteneva gli interessi degli agricoltori, soprattutto di quelli più grandi, di origine aristocratica. Gli aristocratici volevano mantenere dei buoni rapporti con Sparta, ed evitare le guerre. Essi però non ebbero dei dirigenti capaci di creare e mantenere il consenso. Il partito democratico fu guidato in questo periodo da Pericle, imparentato con Clistene, e quindi anche lui della famiglia degli Alcmeonidi. Pericle fu un leader eccezionale, noto per la sua onestà e la sua correttezza, dotato di una eccezionale capacità oratoria. Ma non ebbe timore di provocare guerra. Il suo obiettivo in politica estera era riprendere il conflitto con la Persia, e ottenere la supremazia di Atene in Grecia. Egli volle anche sviluppare, in senso ancora più democratico, la Costituzione di Atene. Nonostante le riforme di Clistene, infatti, solo una minoranza di cittadini poteva effettivamente partecipare alla vita politica. Dato che i magistrati, elettivi o sorteggiati, dovevano mantenersi a proprie spese, solo i più ricchi si potevano candidare. Pertanto, su quasi 40.000 cittadini maggiorenni, solo 6.000 si presentavano usualmente all'Assemblea. Per tale motivo, Pericle fece approvare una legge che assegnava una retribuzione ai magistrati. I giurati dell'Eliea ottennero due oboli, gli arconti, quattro oboli, e i membri della Boulé, cinque. In tal modo, anche i Teti, cioè i cittadini più poveri, poterono candidarsi alle cariche più alte. Pericle fece approvare anche delle leggi per favorire, in altri modi, la fascia più povera della popolazione, migliorandone anche le condizioni culturali, ad esempio con il Teoricon, tutti i cittadini ebbero l'ingresso gratuito al teatro. Furono effettuate distribuzioni gratuite di grano, vennero elargite delle pensioni per i lavoratori inabili e per gli orfani di chi era caduto in guerra. Pericle ha ripreso una politica di costruzioni pubbliche, necessaria dato che Atene era stata distrutta dai persiani. Furono costruiti edifici come il Partenone, il Tempio ad Atena, l'Odeon e i Propilei. Fu edificata una nuova cinta muraria attorno alla città, mentre due lunghe mura collegavano Atene al nuovo porto del Pireo, destinato a diventare il più importante della Grecia. Con le lunghe mura, anche in caso di assedio, era possibile rifornire la città via mare, rendendola quasi inespugnabile. Questi provvedimenti furono rivolti però solamente ai cittadini, escludendo le donne e i meteci. Molti provvedimenti di Pericle ebbero degli aspetti demagogici, dato che favorivano prevalentemente i suoi elettori. Pericle, infatti, fu eletto quasi ininterrottamente stratego e guidò con questa carica la politica estera della città. Egli evitò di allargare ulteriormente il numero dei cittadini, facendo rispettare più rigorosamente la regola che imponeva di avere entrambi i genitori atenesi per essere considerati cittadini. Nonostante le ombre, l'età di Pericle fu quella più luminosa per Atene, che divenne un grande centro industriale, commerciale e anche bancario, grazie all'attività dei trapeziti, che svolgevano le tipiche attività bancarie di cambio di valuta, deposito di contante e prestito su interesse. Anche dal punto di vista culturale, Atene conobbe un notevole sviluppo. Oltre alle costruzioni di cui si è detto, fiorì anche la scultura, grazie a Fidia, che fu anche l'architetto del Partenone. Grande successo ebbero anche autori di opere teatrali, sia tragediografi come Eschilo, Sofocle e Euripide, sia commediografi come Aristofane. Operarono ad Atene in questo periodo anche poeti come Pindaro e Simonide. Ad Atene sorsero anche molte scuole, guidate da uomini detti sofisti, termine che significava sapienti, e solo in seguito divenne dispregiativo. Avversario dei sofisti fu il filosofo Socrate, la cui attività di indagine però lo rese sospetto, portandolo, successivamente alla morte di Pericle, ad una condanna a morte, con l'accusa di corrompere i giovani.